L'abbiamo perso subito in maniera un po' dolorosa e non abbiamo avuto bene il tempo di immettere nella nostra realtà sociale nazionale, metropolitana, le genti provenienze della nostra economia, cosa che invece è avvenuta per Belgio, Francia, Inghilterra, dove praticamente ci sono insediamenti che riproducono in certe zone situazioni tipiche del mondo musulmano. Ci sono alcune realtà in Francia, in Belgio, dove praticamente sono stati prodotti, proprio la vita, Movenberg, il famoso quartiere che poi è stato protagonista nella serie di attentati, sono 44.000 persone che vivono alla musulmana, in tutto e per tutto. Cioè, se andiamo noi, siamo noi gli ospiti, perché abbiamo molta faccia qua. Ma sì, è una città quasi per metà musulmane. Ci sono alcune realtà in Inghilterra, Bristol, Birmingham, la stessa Londra, dove praticamente ci sono interi quartieri che sono musulmani. in Milano. Grazie per aver e consapevole!